Se avete i ricci molto stretti probabilmente il vostro crucio è il cosiddetto sharing cage ossia l'effetto molla e quell'effetto che non vi permette mai di vedere la lunghezza sembra che i ricci non crescono ma oggi vi mostreremo come allungare i vostri capelli utilizzando l'aria calda afferriamo i ricci dalle punte e stendiamoli verso il basso scaldiamo le lunghezze tenendoli in tensione poi raffreddiamo tenendo sempre tesi i ricci come potete osservare la parte lavorata con questa tecnica è molto più lunga e sempre definita rispetto al lato asciugato normalmente